Il punto nascite dell'ospedale Mandic di Merate è destinato alla chiusura. La notizia non è di oggi, ma la conferma informale viene dal primario del Dipartimento Maternità della SST di Lecco, dottor Roberto Bellù, che descrive come è segnato il destino di questo punto nascite. Non a caso però, nel 2024 sono state finora appena tre le nascite registrate a Merate e anche i dati del 2023 sono molto deludenti. Nel scorso anno infatti sono stati appena 193 i bimbi nati al Mandic. Nel 2022 erano stati 276 contro i 490 del 2021 e i 532 del 2020, per non parlare dei 1050 bimbi nati 12 anni fa nel 2012. Insomma, un'emorragia senza fine che porta al Mandic a non poter più essere autonomo come punto nascite. Sarà accorpato a quello di Lecco e le donne del Meratese potranno rivolgersi al Manzoni per dare alla luce i loro bimbi. Ma Bellù ricorda che, quando sarà presa una decisione ufficiale, dovranno comunque passare almeno due mesi prima che il punto nascite del Mandic venga effettivamente chiuso. E comunque i servizi alla nascita, preparto, saranno mantenuti su Merate anche dopo la chiusura e anzi saranno implementati. Obiettivo? Far sì che a Lecco le nascite tornino a superare quota 2600, vetta che tra Lecco e Merate non si raggiunge più oramai da lontano 2015.